La conversazione che hai con una ragazza conta tantissimo è lì che puoi fare la differenza è lì che si capisce se c'è intesa o meno tra di voi è lì che ti fai percepire e le dai la possibilità di farsi una prima idea su di te quindi andiamo a vedere quali sono gli argomenti assolutamente da evitare quando parli con una ragazza 1. successi avuti con altre donne parlare con una donna dei momenti di intimità avuti con altre donne in passato non ti farà di certo guadagnare la sua fiducia anzi lei inizierà a pensare pensa se io andassi a letto con lui lo direbbe alla prossima ragazza che vedrà 2 bravate tra amici dirle quanti spinelli hai fumato a 20 anni oppure quante volte ti sei sballato in discoteca o ancora quante volte sei finito nei guai da giovane non ti farà acquisire valore e stima nei suoi confronti anzi l'esatto contrario le farà intendere che ha a che fare con un teppista o un ex squilibrato 3. politica per carità di dio non metterti assolutamente a parlare delle tue ideologie politiche perché se la vedete in modo diverso finirete per dividervi e litigare quindi arriverete alla fine del rapporto ancora prima di iniziarlo 4. sesso esplicito se fai discorsi molto sconci senza una graduale malizia finirai per farti percepire con un uomo che vuole solo quella cosa pertanto siccome nessuna donna ambisce ad essere usata la ragazza non vedrà l'ora di essere riaccompagnata a casa e non vederti più 5. religione non iniziare a parlare di santi, preghiere, riti, usanze o tante altre cose riguardanti il culto non fanno presa sulla ragazza non ti aiuteranno a coinvolgerla con tutto rispetto per il culto e la preghiera 6. argomenti tecnici non metterti a parlare di fisica quantistica, matematica, motori, fluidodinamica eccetera eccetera tutta sta roba crea ragionamenti e non emozioni 7. fidanzamenti passati questo è un argomento un po' delicato se calchi troppo la mano oppure menzioni continuamente il tuo ex partner si evince chiaramente che non hai ancora voltato pagina ecco questo non va assolutamente bene 8. turismo sessuale mi ricordo di una ragazza che appena le ho detto che andavo a Kiev a Capodanno sostanzialmente si è chiusa e ha interrotto tutta la comunicazione sì perché se vai a Kiev sicuramente vai a Mignotte la testa di alcune persone funziona solo per pregiudizi quindi evita di parlare dei viaggi che hai fatto in città che godono di una certa fama perché pensare male è più facile di ragionare 9. parità dei sessi eviterei anche questo argomento perché se la ragazza di fronte a te fosse una femminista convinta allora finiresti per creare i presupposti di una guerra perfetta 10. allergie agli animali se è allergico al pelo di gatto o al pelo di cane non dirlo subito perché se alla ragazza piacciono molto questi animali è difficile che lei pensi di rinunciare ad essi per scegliere te all'inizio anche loro tendono a farsi le paranoie molto facilmente 10. all'inizio Grazie a tutti.